Punire chi inquina il territorio con le discariche abusive, questa la parola d'ordine dell'assessore all'ambiente del comune di Lauria Rosario Sarubbi, che replica alle segnalazioni del consigliere di minoranza del PDL, Mariano Labbanca. Una richiesta, quella del consigliere, per limitare il degrado che insiste nella grotta naturale di via Cerruto, alla quale non si è sottratta l'amministrazione comunale. Sono situazioni di degrado che per il decoro urbano sicuramente è giusto ed è corretto affrontarli urgentemente, anche se purtroppo ci sono i tempi tecnici e se non si predispone il piano ovviamente noi non possiamo intervenire, perché comunque sono dei depositi fatti abusivamente e dovremmo tentare di individuare anche chi ha fatto questo smaltimento illegale. Un luogo di particolare pregio storico, come spiegato da Mariano Labbanca, che per la sua tutela e valorizzazione potrebbe beneficiare di fondi ministeriali. Se noi pensiamo che nelle grotte dove ammiriamo questo degrado, nel 50 anni fa la gente si nascondeva per il pericolo della guerra, quindi sono state anche delle grotte di utilità storica, quindi era un messaggio da portare ai nostri figli. Ovviamente non possiamo permetterci di portare questo messaggio. Fortuna vuole che uno degli ultimi finanziamenti che ha fatto il governo Berlusconi per Lauria ci sono 330 mila euro che riguardano la messa in sicurezza di questo quartiere. Spero che si intervenga su quanto dichiarato, su quanto segnalato sui muri e su quella parte che permetta ancora l'abbandono dei sassi nel riondo sottostante.